C'è un collegamento sicuramente con l'attentatore di Berlino. Amri Anis era in contatto con Amri Sofiane, come è chiaramente emerso dall'analisi delle chat che abbiamo fatto. Ma un contatto diretto tra i soggetti che sono stati arrestati in Italia con l'attentato di Berlino del 19 dicembre non ci sono evidenze investigative per poter affermare una cosa del genere. In Italia solo di transito, ma poi quali erano le loro mire? In Italia solo di transito, le loro mire erano quelle di passare Grecia tramite il porto di Patras su Turchia e poi andare in Siria dove verosimilmente avrebbero dovuto fare i foreign fighters.